Buon pomeriggio da Giacomo De Tommaso, questa è l'edizione Flash delle 16 del GR Sestina. Si è appena conclusa la requisitoria del processo a Marco Cappato, l'esponente dei Radicali, accusato di aver agevolato il suicidio in Svizzera di DJ Fabo. Ci racconta come è andata Jacopo Bernardini, che è qui in studio con me. Si è conclusa dopo due ore con un applauso del pubblico la requisitoria della procura che ha chiesto l'assoluzione di Marco Cappato. L'esponente dei Radicali, lo ricordiamo, è accusato di aver aiutato il suicidio di Fabiano Antoniani, da tutti conosciuto come DJ Fabo, accompagnandolo nella clinica Svizzera dove è morto il 27 febbraio 2017. Secondo i PM però il fatto non sussiste. Marco Cappato non ha avuto alcun ruolo nell'esecuzione del suicidio assistito e non ha rafforzato la volontà di DJ Fabo di morire. Il giorno dopo la tragedia della lamina S.P.A., in cui tre persone hanno perso la vita per intossicazione, sono iniziate le indagini della procura sulle cause dell'incidente. Restano ancora gravi le condizioni del quarto dipendente coinvolto. Ci aggiorna sulla situazione il nostro inviato, Lorenzo Nicolao. Qui in via Rò 9 è entrato qualche minuto fa un mezzo dei vigili del fuoco per effettuare ulteriori verifiche alla lamina S.P.A. l'azienda posta ora sotto sequestro dopo l'incidente di ieri. Mentre la procura indaga con l'ipotesi di omicidio colposo plurimo, il sindaco di Milano Sala ha annunciato oggi il lutto cittadino per le tre vittime ed è pronto a organizzare un tavolo di prevenzione sugli incidenti sul lavoro. 127 da gennaio a novembre del 2017, questi sono dei dati che sono stati ricordati dai sindacati per chiedere nel pomeriggio di oggi un incontro con il prefetto. La proposta è quella di una task force per le ispezioni in azienda e controlli più frequenti da parte dei carabinieri dei nuclei specializzati per estendere così le pratiche del cosiddetto modello Expo e prevenire altri morti bianche, ovvero sul lavoro. Lina allo studio. Sul caso Reggeni è intervenuta per la prima volta e con un duro comunicato contro la procura di Roma l'Università di Cambridge. Tutti i dettagli nel servizio di Giulia Giacobini. Una vergognosa campagna di denigrazione alimentata da interessi politici. Così l'Università di Cambridge riassume l'attenzione nei confronti di Maha Abdel Raham, ex tutor di Giulio Reggeni, il ricercatore italiano rapito e ucciso in Egitto. In difesa della professoressa è intervenuto il rettore dell'Ateneo in persona, Stephen J. Tup, che in una nota si è anche lamentato per la fuga di notizie sulle indagini. Nei giorni scorsi la polizia ha perquisito l'abitazione e l'ufficio della docente, che è stata più volte ascoltata dagli inquirenti nel ruolo di testimone. Passiamo alla politica. I guai giudiziari del sindaco di Milano, Beppe Sala, irrompono nella campagna elettorale. Prevista per il 2 febbraio l'udienza preliminare per abuso d'ufficio. Giulia Riva, qui in studio, ci spiega cosa succederà. Buon pomeriggio Giacomo. Come dicevi, febbraio sarà un mese caldo per il sindaco di Milano, o quantomeno un mese denso di appuntamenti in tribunale. Infatti, all'udienza già prevista per il 20 febbraio, in cui dovrà rispondere il sindaco dell'accusa di falso, si aggiunge una nuova convocazione, perché il 2 febbraio invece è in programma l'udienza preliminare in cui l'ex ADD Expo dovrà rispondere appunto di abuso d'ufficio. Abuso d'ufficio per presunte irregolarità nell'affidare alla Mantovani SPA un appalto del valore di oltre 4 milioni di euro per fornire ad Expo 6.000 alberi. È inutile quasi dire che se da quest'udienza preliminare si svilupperà un ulteriore processo, le chance del PD di vincere alle prossime regionali risulterebbero ancor più compromesse. Le due Coree spileranno assieme sotto la stessa bandiera in occasione della cerimonia d'apertura dei prossimi giochi olimpici invernali. Qui con me c'è Nicola Baroni. Nicola, cosa sappiamo dell'accordo raggiunto? Sì, alcuni dei dettagli sono per esempio che il Nord Corea invierà 230 tifosi alle Olimpiadi, tra cui cheerleader non di tipo americano ma fedeli al modello nordcoreano. Altri elementi sono l'unica squadra di hockey femminile, una sessione congiunta di allenamento per gli atleti dei due paesi. Sempre stamattina si riunivano a Vancouver i ministri degli esteri di 20 paesi in testa agli Stati Uniti per discutere la situazione nordcoreana e la linea comune e che la distensione va bene ma imprescindibile per il dialogo resta l'abbandono delle ambizioni nucleari del nord. Un elemento curioso è anche che gli allenamenti comuni tra i due paesi si svolgeranno in una città di velleggiatura del nord non lontana da un luogo di test missilistici. Ma torniamo alla cronaca. Una praticante avvocato è stata cacciata dal tribunale perché indossava il velo. è successo a Bologna, il servizio di Massimo Ferraro. Aveva già assistito a decine di udienze anche in queste aule del TAR di Bologna. Ma stamattina un giudice le ha imposto di togliersi il velo o lasciare l'aula per ragioni culturali. Asmae Belfakir, 25 anni, avvocato praticante di origini marocchine, è uscita dal tribunale e si è detta sconvolta. Era un volto scoperto, il velo copre solo la testa. L'udienza è poi proseguita regolarmente e il giudice non ha voluto rilasciare dichiarazioni. La Commissione Europea ha appena annunciato il lancio in primavera di un piano d'azione sulla tecnologia finanziaria che esaminerà anche il problema dei bitcoin. Questo, mentre il valore delle criptovalute continua a scendere, come ci spiega Manuela Gatti qui in studio. Sì, continua a scendere il valore del bitcoin, la più famosa tra le monete virtuali che comunque stanno registrando tutte pesanti ribassi in questi giorni. Il bitcoin è sceso sotto i 10.000 dollari poco fa, per la precisione a 9.502 dollari, un calo del 50% dal record segnato a dicembre quando il bitcoin ne valeva 20.000. Nel frattempo appunto la Commissione Europea ha appena annunciato che Bruxelles sta seguendo da molto vicino l'andamento delle monete elettroniche e che ha chiesto urgentemente alle autorità europee di vigilanza finanziaria di aggiornare le avvertenze ai consumatori. È ancora troppo presto però per parlare di una stretta normativa, come invece hanno già annunciato Cina e Corea del Sud, che è appunto il motivo che ha fatto crollare il valore dei bitcoin. In Val d'Aosta e Piemonte sono stati chiusi molti impianti scistici a causa del forte vento. Vento che sta causando problemi anche in Sardegna e Toscana, dove sono stati interrotti i collegamenti con le rispettive isole. Questa era l'ultima notizia di GR Sestina. Grazie per averci ascoltato. Grazie per aver guardato il video.